No, 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 mancare di rispetto. Ti finisci pure. Io volevo fare con te un piccolo commento della classifica. Lo so che... Vai! No, 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 no! Quello che dicevi, insomma, ho capito che ovviamente vieni qui per promuovere il tuo nuovo lavoro, che la gara ti interessa tanto quanto, però per quanto piace a noi il tuo pezzo, riteniamo che il primo 25% stabilito ieri sera sia stato proprio cattivo con te, nel senso che per noi dovevi stare molto, molto più su. Grazie. Ma ci speri ancora di poterlo vincere questo festival, ci credi? Insomma, ti piacerebbe, anche se, come dicevi, la tua canzone non è molto sanremese. Ma guarda, per me vincere... Sai, tutti pensano che vincere sia la finalità ultima di Sanremo. In realtà, la finalità ultima di Sanremo è veramente far arrivare il proprio pezzo a più persone possibili. E questo nuovo posto... Guarda, lo prendo, lo accetto con estrema serenità, perché mi rendo conto che il pubblico della musica e il pubblico della televisione sono due cose molto diverse. Accetto di buon grado il primo posto dell'album, del mio album, su iTunes, e voglio ringraziare tutte le persone che l'hanno comprato. Comunque, ricordatevi che non è mai troppo tardi per farlo salire in classifica. Che su Televoto!